Dio è più grande di me, Dio è più grande di te, Dio è più grande di tutto quello che mi circonda, della situazione che sto vivendo oggi, Dio è più grande di qualsiasi cosa in questo mondo. Ma come possiamo riconoscere la grandezza di Dio nella nostra vita? Ebbene io penso che questa sia una cosa molto semplice, fra virgolette, perché riconosciamo la grandezza di Dio nelle piccole cose, riconosciamo la grandezza di Dio se ci fermiamo solo un attimo a contemplare la natura, a contemplare il cielo, a contemplare il mare, contemplare quello che mi circonda, no? Vediamo come Dio è il più grande artista, non c'è nessun altro che ha potuto fare una cosa così bella come il cielo, come il mare. In questa cosa che può sembrare piccola e banale riconosciamo la grandezza di Dio e Dio è più grande di tutto quello che ci circonda, delle situazioni negative, delle situazioni, anche le situazioni di gioia, Dio è più grande anche di quella cosa. Quindi io penso che possiamo riconoscere la grandezza di Dio proprio fermandoci a guardare le piccole cose, fermandoci a guardare il sorriso di un bambino, fermandoci a contemplare il bello e voglio invitarti in questa giornata a fare proprio questa esperienza di bello, di contemplazione, di fermarti per un istante a guardare ciò che ti circonda e a vedere e riconoscere che tutto ciò è stato fatto da Dio e riconoscendo questo ringraziarlo per tutto ciò che ti circonda, perché Lui l'ha fatto solo per te, lo ha fatto solo affinché tu potessi vivere meglio.